Ma benvenuti a tutti i bastardi, bentornati nel canale di Giacone X Oggi facciamo il Summer Party by Seven Wonders presentato al Vapitali 2019 Eccoci qua ragazzi, finalmente i caldi sono iniziati Infatti ci potete vedere tutti e due accannottati Ma di brutto E quindi non possiamo perché andare con un bel fresco che noi amiamo tanto Facciamo il Summer Party by Seven Wonders e qua c'è scritto che è Frozen Watermelon Quindi un'anguria ghiacciata, vi ricordo che per chi fosse stato a Verono o per chi non lo fosse stato C'era un bel chiosco in mezzo allo stand Vaporart con l'anguria ghiacciata e gli facevano provare questo liquido A me sembra di cicca l'anguria Cicca l'anguria All'olfatto sembra proprio un chewing gum all'anguria Ma al naso forse sembra anche un po' stomachevole perché comunque al naso però Lo proveremo su profile waterproof però con una coil e non con una mesh Un Alien da 0,34 a 42 watt Bene Devo dire che è buonissimo Sapete bene come la pensiamo noi per i ghiacciati Però l'anguria sembra veramente l'anguria di quelle gomme da masticare che c'erano in passato con un'aggiunta di ghiaccio E' fresco e' fresco e' fresco e' parecchio E' bello il congelato e' a parte che è veramente proprio ti ghiaccia la gola sa proprio di cicca l'anguria per me Per me è buono Per me è troppo troppo veramente però è veramente troppo ghiacciato Tanto Tanto Tantissimo ghiacciato Però C'ho quasi mal di testa Però l'anguria a me piace tantissimo Si è buono L'anguria di questo liquido E io mi sento di dargli pur essendo un ghiacciato un bel 8 Io gli do 7,5 Gli do 7,5 L'anguria mi piace però questo fresco qua mi fa andar via tutto il piacere dell'anguria Quindi gli do un 7,5 Signore provatelo Dicisi qualcosa nei commenti E se l'avete già provato ditecelo E iscrivetevi al canale e recensiteci su Flavorito.it Perché sennò siete dei Bastardi Firmate la petizione Mi raccomando va della nostra passione Cioè lo svapo Iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video che non si sa qual'è Con l'ultimo svapato di Stefanello Vabbè ciao Iscrivetevi al canale Grazie a tutti Grazie a tutti